Io ti do perconso e orari. Se tu mi importi valigetta e cintura, stai tranquillo, hai centomila cegnari. Sarà un po' articolato, perché come l'ho pensato di fare, non è andare a passeggio. Qua è l'ultimo colpo della vita. C'è un'opera d'arte. C'è solo una soluzione. Che lupi. Che lupi. Sono loro che possono fare questo. Qui mettiamo il nostro tesoro. Vediamo che mi mancano ancora due file da muovere. Che cosa? Ma che è questa? Hai questa ricordia? Dico lì, non so quello che vuole. Come fa a chiedersi chiedi? Come fa? Io lo dovevo vedere in faccia, lo devo braccare, lo devo... Lo devo catturare. Ho lasciato di solo come un coglione, boss. Caccio secondo me, siamo tutti a puntare. È stabilito. Sto sudando. Guardi. Mi viene male, mi viene male a pensare. Aspettare ancora 24 ore. Perché io domani sera voglio più. Basta, basta. Devo avere la mente lucida. Ma io sono sempre stato di parola con la gente. Stavolta che ho bleffato un po' più del normale, come al solito io, come al solito. L'intervista invece la scola di mattine su parte. Grazie a tutti.